Lo vedi il coniglietto? Sì, piccolino. Secondo me gli piace giocare. No? Avvicinati piano piano. Secondo me se ci avviciniamo se ne scappa. E' proprio quello che stavo per dire. Non ci avviciniamo troppo. Qui si spaventano. Che bellino. Piccolino, 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 piccolino. Sì, piccolino, piccolino. Inquadriamo pure il laghetto. Vedo il famosetto che va su e giù. Il famosettino, piccolino. Allora il tipo preferito dei conigli è una carota. E sono le carote no? Ce l'hai una carota? Beh no, se gliela portavamo il carino si spaventava. Eh, ma non lo so se si avvicina a mangiare la carota dalla tua mano. Eh sì, magari penso che è una trappola. Eh sì, non si fida no? Questo è bello bello là sotto. C'è una carota? Eh sì. C'è una carota? C'è una carota? Eh sì. piccolino, è vicinissimo papà, più vicino di qui non andare. Io ero proprio qui davanti a te. Ok. A carota si mangia l'erba. Ti piace anche l'erba. Guarda dove scappa. Sta correndo. Secondo me gli piace giocare, non è vero? Eccolo, eccolo. Guarda. Tu. Andiamo là. Andiamo da lui piano piano? Andiamo. Andiamo. Guarda dietro, dai. Guarda dietro non ci vede, dai andiamo. Se ne va. Eh? Se ne è andato. Perché? Guarda. Io non sentivo neanche le mie passi. Dai, hanno paura. Hanno paura i canegli perché sono piccolini. Però dovrebbe essere un po' più grande, no? No, non era lui qui. Hai visto? E io non lo vedo. Avvicinati. Se ne va. Se ne va. No, ma... Se ne va, se ne va. Avvicinati la stessa cosa. Non può essere fuori dal lago? La papera? Sì. Sì. E come? Ho messo la testa sotto l'acqua. Ti piace qua? Sì, mi piace. Ti ricordavi che eravamo venuti quando eri piccolo? Beppe, tu nemmeno riservi che non mi ricordavo. Un'ora sì che mi ricordo. Ok. Cioè, la papera si sta allontanando però è comunque molto vicina, no? Eh, insomma. Lo vedi un altro coniglio? Lo vedo, è proprio lì. Ma secondo te è un coniglio appena nato? È appena nato. No, non credo. È così grassissimo. Si mangia l'erba. Lo vedo. O si mangia l'erba o le carote? No, le carote qua non ci sono. Sì, se noi gliela portiamo ce la mangia, no? Ah, sì, sì. Se gliela portavi da casa... Non sono a vedere un pochino più da vicino? Eh, ma penso che se ti avvicini troppo se ne va. Eh, non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Proviamo ad avvicinarci, dai. Da dietro o davanti? Non so. Da dietro. Un dente di leone? Eh no, se gridi se ne va. Vieni, dai. Non so. Non so. Non so. Non so. Non so. Voglio soffrire il dente. Vai, soffi, soffi. Non so. Bello. andiamo dal coniglio dai cerco di avvicinarmi ma già si è messa in allarme prima guardiamo il coniglio è vicinissimo bravo con la ripresa l'hai fatto vicino si ho fatto uno zoom davvero molto carino molto carino no? dovresti dire occhio a cadere no? si occhio a cadere andiamo? ti puoi specchiare nell'acqua guarda dentro l'acqua vedi il telefono? ok ma ora togli perché è rischioso che può cadere il telefono si siamo riflessi vedi? si io sono io e tu sei tu dove sei finito pesci? beh io andrei ma sono paurati un po' di pesci? si a tutti gli animali sono paurati? si si un po' tutti beh ti è piaciuto qua? si saluta ciao ciao Tutto, 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 tutto.